Liutista e compositore, può essere definito come uno dei maggiori autori del Cinquecento. Gorzanis compose prevalentemente brani con la sola presenza di liuto e voce. Di lui ci rimangono sette voluminosi lavori, nei quali da sfoggio della sua abilità nell'impiego delle colorature e nello sfruttamelle possibilità timbriche del liuto. La musica di Gorzanis oltrepassò i confini della Puglia e della terra italica. Ci sono testimonianze che le sue composizioni erano note anche in Baviera e in Inghilterra. la musica di Gorzanis. Grazie a tutti. 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 con Martino. Grazie a tutti. Andrea Pino. Grazie a tutti.